Cosa succede in un laboratorio di meditazione? Un workshop di meditazione è un corso pratico sull'imparare a meditare. Un tale laboratorio di solito comporta una piccola quantità di teorie e tenga a concentrarsi su una sessione di meditazione guidata in cui l'istruttore parla agli studenti attraverso il processo di meditazione. In generale, tali corsi sono offerti a un gruppo di persone, anche se sono disponibili laboratori di meditazione individuali. La meditazione guidata è utile per coloro che non hanno mai meditato prima e hanno difficoltà a trovare il tempo e la pazienza per farlo da soli. Un seminario di meditazione fornisce un momento in cui l'unico scopo è quello di meditare e altre preoccupazioni sono molto meno probabilità di interferire con il processo di meditazione. La natura precisa di un seminario di meditazione varia sostanzialmente in base al tipo di meditazione praticata. Molte forme di meditazione, come la meditazione zen, si basano sul chiarire la mente di ogni pensiero e raggiungere uno stato di totale rilassamento. Altre forme si basano su particolari pratiche religiose e riguardano principalmente la contemplazione di un principio religioso, come quello di un versetto biblico. Qualunque sia l'obiettivo della meditazione, l'istruttore di un laboratorio di meditazione tende a parlare agli studenti attraverso i necessari passaggi mentali. Alcuni cercano di aiutare gli studenti a concentrarsi sulla loro respirazione e nient'altro mentre altri cercano di concentrare gli studenti su una particolare idea da contemplare. In alcuni casi, un workshop di meditazione inizierà con una breve discussione sulla teoria alla base di una data scuola di meditazione. Questo tende ad includere una spiegazione del valore della meditazione e degli obiettivi del workshop. L'obiettivo principale di un seminario di meditazione è di solito entrare con successo in uno stato meditativo. Gli studenti tendono a sedersi sui cuscini sul pavimento o su comode sedie mentre l'istruttore spiega, passo dopo passo, cosa devono fare e pensare. In alcuni casi, questa spiegazione comprende tutto, da quando si dovrebbe respirare a come si dovrebbe sedere. Alcuni seminari di meditazione sono destinati principalmente all'istruzione, mentre altri hanno lo scopo di offrire alle persone l'opportunità di meditare su base regolare. Un seminario di meditazione didattica di solito fornisce agli studenti le conoscenze di cui hanno bisogno per meditare sul proprio tempo in aggiunta alla sessione di meditazione guidata o alle sessioni. L'altra forma di laboratorio di meditazione tende a includere solo la meditazione guidata. Le persone usano comunemente questi seminari per incoraggiarsi a dedicare del tempo per meditare, in particolare se diventano facilmente distratti o danno priorità ad altri compiti senza tale guida.